Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, quest'oggi video sulla Thailandia e specificatamente parliamo ancora di Thailand Pass che è appunto il documento che va compilato per poter ottenere il QR code necessario a tornare in Thailandia e sfruttare il test Ngo cioè rientrare in Thailandia con soltanto un giorno di quarantena che è partito esattamente dal primo novembre del Thailand Pass, ho parlato in questo video, tre giorni fa a Thailandia, ecco come fare il Thailand Pass lo lascio qui in alto se ancora non l'hai visto ed è di fatto un tutorial per completare step by step il sito, direttamente dal sito, inserire tutte le informazioni corrette e poter così poi ottenere questo famoso QR code necessario appunto per rientrare in Thailand anche ti lascio il link in alto, ovviamente guardalo se ancora non l'hai fatto, lasciagli un like e commentalo mentre per quanto riguarda oggi andiamo a vedere tre, quattro, anzi direi quasi cinque specifiche che possono aiutarti a compilare il Thailand Pass correttamente e potrebbero evitarti poi di perdere dei giorni del tempo prezioso quando poi stai attendendo la risposta, direi quindi di non perdere altro tempo e di cominciare come sempre dopo la sigla prima di cominciare il video come sempre se ancora non lo hai fatto ti chiedo di iscriverti al canale cliccando anche sulla campanellina per le prossime notifiche dei prossimi video, delle prossime live che faremo sul canale e ti chiedo anche un like al video per supportare il canale con l'algoritmo di YouTube mi raccomando questo è molto molto importante e ti lascio anche in descrizione il mio link al mio Paypal per chi volesse poi fare una donazione al canale e supportare la produzione di questi contenuti digitali ovviamente donazioni sempre ben accette per quindi questi suggerimenti che voglio darvi mi sposto sul sito di Royal Vacation del quale abbiamo parlato nei giorni scorsi Royal Vacation anche sulla base dei vostri commenti sembra funzionare bene per quanto riguarda i pacchetti necessari al rientri in Thailandia ovviamente anche loro possono avere qualche ritardo perché immagino abbiano avuto sicuramente molte richieste però insomma si stanno confermando comunque un intermediario solido appunto per gestire queste pratiche hanno rilasciato queste linee guida e ve le voglio leggere insieme vediamo di avere qualcosa di utile anche per noi la prima è Deadline for Thailand Pass Application Submission cioè il sistema del Thailand Pass non accetterà application for people traveling entro le 48 ore questo vuol dire ragazzi che se dovete andare appunto in Thailandia non riducetevi nelle ultime 48 ore a fare l'applicazione del Thailand Pass perché evidentemente qui stanno dicendo che il sistema non accetterebbe la vostra domanda perché ovviamente perché non sarebbero in grado magari di gestire la vostra pratica quindi correreste il rischio di dover poi insomma ricancellare i voli e quant'altro quindi cercate di prendere un po' di tempo in modo tale che possano avere il tempo loro di gestire la pratica questa è una cosa abbastanza semplice direi che non ci sono altri commenti da fare quindi il secondo punto è per quanto riguarda chi viaggia con bambini di 12 anni insomma leggiamo la nota if you are traveling with children under 12 years old they can be added to the same application submitted for the guardian quindi di fatto all'interno della stessa pratica dovrete inserire anche i dati di immagino vostro figlio quindi il risultato, l'outcome di questa cosa sarà che verranno generati due QR code uno vostro e uno di vostro figlio quindi questo aiuta poi anche chi magari non viaggerà solo ma che deve anche gestire il discorso di viaggiare poi appunto con un membro in più della famiglia per quanto riguarda invece il certificato vaccinale ecco questo è il dettaglio più interessante, secondo me più utile tra l'altro se non ricordo male anche un paio di iscritti al canale me lo segnalavano nei giorni scorsi tra l'altro diciamo che quando venne lanciato se vogliamo il Thailand Pass venne comunicato che il Thailand Pass, il sito, comunque la piattaforma avrebbe avuto sicuramente qualche bug, qualche issue ancora da risolvere da qui fino al metà novembre quindi tutti i rallentamenti che state avendo o magari il fatto che non vi faccia caricare determinati allegati o che vi faccia magari, o che si blocchi insomma sono se vogliamo di routine so che sono ovviamente fastidiosi però vanno accettati anche loro sanno che questa cosa causa dei problemi però hanno anche detto insomma che la piattaforma proprio informatica dal 15 novembre poi sarà più solida e consentirà poi a tutte le domande di essere evase in tempo e senza rallentamenti, insomma l'avete visto nel video la registrazione in sé è banale, prevede soltanto l'inserimento di campi di informazione vostra e qualche allegato quindi leggiamo se il certificato è rilasciato dal vostro paese a un QR code hanno notato che la procedura diventa molto più veloce nel caso dell'Italia effettivamente sul Green Pass c'è il QR code poi viene detto che se il tuo paese dà un certificato di due dosi cioè due certificati per ogni dose tu puoi compilare in ogni campo la prima e il secondo certificato mentre se il tuo paese dà soltanto il Green Pass con la seconda dose dovrai inserire questo stesso certificato in entrambi i campi c'è solo da eventualmente ricordarsi di quando si è fatta la prima dose come data ma quello in realtà si può stimare dal punto di vista informatico che la piattaforma vuole due allegati per entrambe le vaccinazioni nel caso italiano semplicemente si va a inserire lo stesso certificato lo stesso Green Pass ovviamente nello stesso campo ripeto niente di trascendentale ma insomma penso che possano essere utili questi tips come li chiamerebbero, questi suggerimenti per non avere un rallentamento nel caso poi ovviamente voi stiate facendo l'application da soli perché ovviamente se vi affidate a Royal Vacation ragazzi tra l'altro su Royal Vacation io l'ho solo suggerita nel senso che non ho nessun rapporto di natura commerciale o di collaborazione assolutamente è che ai tempi di Book's Inbox la vidi e insomma e notai poi che nel periodo successivo tutti quelli che del canale siano affidati siano trovati abbastanza bene quindi per questo che abbiamo parlato anche per questa riapertura Royal Vacation dice anche che ovviamente tramite loro si possono prenotare i pacchetti e che frequentemente faranno questi langi sono questi articoli nei quali segnalare cosa notano a livello di o cosa possono dare come suggerimenti appunto per chi vuole fare l'application da soli senza di loro insomma fatica pratica per andare in Thailandia e tornare appunto sfruttando il fatto di questo test and go che è partito dal primo novembre ovviamente ragazzi fatemi sapere nei commenti se state pensando di andare in Thailandia da qui a fine anno o magari probabilmente state aspettando il fatto che la Thailandia non sia più in zona e scrivetemelo qui sotto nei commenti così poi andiamo avanti a discuterne se ragazzi ancora non l'avete fatto vi chiedo di iscrivervi al canale cliccando anche sulla campanellina per le notifiche dei prossimi video dei prossimi live che faremo sul canale e un bel like al video e una vera ricompensa insomma per far vedere il video a più persone direi quindi che per questo video è tutto come sempre sempre dal mondo della Thailandia ci sentiamo presto sul canale ciao ciao e a presto